Confindustria e Camera di Commercio Chieti-Pescara scendono in campo per mettere a disposizione del tessuto produttivo strumenti innovativi per il futuro. ABC Abruzzo Blockchain tutela, promuovi e spandi, costituisce un percorso di evoluzione digitale che vuole potenziare la crescita economica del tessuto produttivo abruzzese, in gran parte costituito da micro e piccole imprese dove una quota crescente di export è detenuta soprattutto dai settori design e food wine. Sono due settori che riguardano in maniera abbastanza importante il nostro export e quindi possiamo sicuramente avere soddisfazioni maggiori nei mercati internazionali. Resta però prioritario, come ha spiegato il presidente dell'ente camerale Gennaro Strever, lo sviluppo infrastrutturale nella nostra regione che è attualmente in forte ritardo. Se noi perdiamo questo treno di perdere le infrastrutture che sembravano cose acquisite, che si facevano, tipo l'alta velocità Roma-Pescara, è un danno irreversibile. Io come camion di commercio ho fatto un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in Senato, in Regione, affinché si diano da fare, fanno squadra, perché qui bisogna parlare di Abruzzo, non di partiti singoli perché non avrebbe senso. Se noi non riusciamo in questa fase rischiamo di rimanere una regione isolata dal resto d'Italia.